Insieme e coesi, come poche volte prima di ora, le più importanti sigle sindacali sono riunite oggi a Roma per la manifestazione Lavoro e Democrazia. Un corteo partito da due piazze, Piazzale dei Partigiani e Piazza della Repubblica, e poi confluito in Piazza San Giovanni con gli interventi dei tre segretari generali, Susanna Camusso, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti. Una grande manifestazione che ha raccolto la partecipazione di migliaia di giovani precari, occupati e disoccupati, ma anche di pensionati che hanno gridato al governo la necessità di riportare il lavoro al centro delle scelte politiche ed economiche e sostenere l'economia con misure per gli investimenti, la redistribuzione del reddito e la ripresa dei consumi. Per i sindacati questo è il momento di superare gli annunci e di intervenire con misure concrete che favoriscano il rilancio dell'occupazione, in particolare quella giovanile, agevolando i percorsi di formazione. Per far sì che si ottenga questo risultato occorre rilanciare gli investimenti. Con particolare attenzione hanno detto al mezzogiorno, dove la carenza di infrastrutture continua a penalizzare l'economia, e mettere in campo una riforma del fisco che, redistribuendo il carico, aiuti ad alentare la pressione fiscale per lavoratori e pensionati. Un altro accento è stato posto dai sindacati sul tema del rifinanziamento della cassa integrazione in deroga e il completamento della salvaguardia degli esodati. È necessario, sostengono, ridurre le tasse ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e alle imprese che decidono di fare assunzione, destinando a tale scopo le risorse derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, reato di cui va sancita la natura penale. Lavoro è democrazia e, per CGL Cisle Will, investire nella scuola pubblica, nell'università e nella ricerca, al fine di dare una risposta occupazionale alle giovani generazioni. Ma è anche una politica industriale che rilanci le produzioni, uno strumento di contrasto alla povertà e il finanziamento del Fondo per la non autosufficienza, la proroga per i contratti dei precari della pubblica amministrazione e la riforma dell'Imu esonerando solo i proprietari di un'unica abitazione.